le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 4 giugno ariete siete cariche vitali nulla vi è vietato in una giornata come questa i rapporti con gli altri sono splendidi in famiglia riuscite a farvi valere toro bisogna agire proporsi mettere in pratica le idee che vi frullano in testa mercurio nel vostro segno può regalarvi una grande soddisfazione lavorativa gemelli giornata molto positiva per voi amore sempre in primo piano ma sono i rapporti personali in generale a regalarvi oggi le soddisfazioni migliori cancro il fine settimana vi permette di liberare il vostro desiderio di libertà ma per questa volta sarebbe bene organizzare qualcosa di semplice con i vostri familiari leone la luna nel vostro segno è piena di speranze di prospettive quindi vi rende ottimisti venere e saturno sono sempre severi ma non sembrano scalfirvi più di tanto vergine la luna un po critica per le questioni pratiche dovete essere più accorti nella gestione del vostro patrimonio dovete pensare al futuro bilancia giornata ancora molto bella l'amore continua a darvi qualche grattacapo ma con la luna in un segno amico sono tante le cose pronte a cambiare scorpione giornata faticosa non vi sentite in grande forma e alcuni imprevisti possono innervosirvi limitatevi al minimo indispensabile non avventuratevi in imprese spericolate sagittario una luna davvero molto positiva vi riempie di speranze alimenta il vostro idealismo stimola la curiosità che da sempre vi contraddistingue capricorno vi liberate finalmente dell'opposizione della luna che vi ha messo di cattivo umore negli ultimi giorni oggi sarete più tranquilli e i risultati si vedranno acquario la leggerezza che dimostrate in questo momento vi rende distratti e inconcludenti sotto questa luna dovreste essere proprio attenti se volete evitare un rimprovero pesci una giornata in cui alcuni progetti sembrano realizzarsi anche mercurio vuole strizzarvi l'occhio indicandovi le persone di cui potete fidarvi e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti